Chiediamo giustizia per nostro fratello, assassinato in Italia, neanche un animale merita di morire in questo modo. Con queste parole, le tre sorelle di Nurdin Naziki, alias Saeed Malcom da 24 anni residente in Italia, hanno parlato alla televisione marocchina Ciuf TV. Domenica 8 settembre, Nurdin è stato investito e ucciso a Viareggio da un SUV guidato dall'imprenditrice Cinzia d'Alpino, nota in città e proprietaria con il marito dello stabilimento Bagni Milano. Le sorelle di Nurdin sono sconvolte dal fatto che l'imprenditrice sia attualmente agli arresti domiciliari e non in carcere. Dall'Italia è giunto loro un video che mostra l'atroce omicidio del fratello, registrato da una telecamera di videosorveglianza. Le immagini immortalano il SUV con Cinzia d'Alpino al volante mentre travolge Nurdin e poi procede a investire l'uomo per ben tre volte, passando sopra di lui quattro volte in totale. Solo quando è certa che Nurdin non possa più reagire, la telecamera riprende la donna mentre scende dal veicolo e recupera la borsetta rubata. Dopo aver ripreso la borsa, Cinzia d'Alpino risale in auto e si allontana come se nulla fosse, lasciando l'uomo a terra in fin di vita. Sono stati i passanti inorriditi a chiamare i soccorsi, ma per Nurdin non c'è stato nulla da fare. Nel frattempo Cinzia d'Alpino si era recata a restituire un ombrello prestato e poi tornava a casa. La polizia ha rintracciato la donna tramite la targa del SUV. Le immagini, diffuse a livello mondiale, chiariscono senza dubbio la dinamica dell'omicidio. Nonostante la gravità del caso, il giudice per le indagini preliminari di Lucca, Alessandro Trinci, ha deciso di non convalidare l'arresto in carcere e ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ritenendo non ci fosse rischio di fuga o di inquinamento delle prove, ma ammettendo la possibilità che la donna possa reiterare il reato. Il pubblico ministero Sara Polino aveva richiesto la detenzione in carcere per l'accusa di omicidio volontario. Le sorelle di Nurdin, da Casablanca, sono devastate dal dolore. In un'intervista alla TV marocchina, tengono in mano la foto del fratello e raccontano di aver appreso la tragica notizia dai media, senza alcuna comunicazione preventiva dalle autorità italiane, prima che il video dell'investimento, particolarmente crudo, arrivasse anche alle TV marocchine. Sono profondamente addolorate e dichiarano «Nostro fratello non si trovava in strada, ma sul marciapiede. Quella donna ha deliberatamente guidato sul marciapiede con l'intento di investire nostro fratello. Lo ha fatto per ben tre volte, per riprendersi la borsa. Ha agito con una freddezza disumana. Nemmeno un animale merita di morire così. La nostra famiglia è sotto shock e chiede che venga fatta giustizia. Non riusciamo a comprendere come all'autrice del delitto siano stati concessi gli arresti domiciliari», esprime una delle sorelle di Nurdin Naziki, visibilmente sconvolta. Un'altra sorella aggiunge «Nostro fratello ha commesso un errore, ma non meritava una morte così cruenta. Chiediamo ai nostri connazionali magrebini di unirsi a noi per ottenere giustizia. Invitiamo anche il re a intervenire». Prima che il video dell'omicidio diventasse pubblico, l'imprenditrice Cinzia Dalpino aveva cercato di difendersi, sostenendo che l'immigrato l'aveva minacciata con un coltello, giustificando così il suo gesto come legittima difesa. Il video smentisce chiaramente la presenza di un'arma e le indagini hanno confermato che non è stato trovato alcun coltello. Inoltre, l'imprenditrice ha successivamente rimosso dai suoi social molte fotografie che la ritraevano durante i suoi numerosi viaggi e momenti di festa, forse per apparire più modesta e semplice. Chi la conosce però sa che non è così. I molti amici di Cinzia Dalpino, colpiti dalla notizia, faticano a credere che una persona così affabile e gentile possa aver commesso un atto tanto violento. I clienti del suo stabilimento balneare commentano all'unisono «Ho visto il video e non riesco a crederci una persona così gentile con tutti». Come è stato possibile che sia arrivata a uccidere un uomo per una borsa? Pare che la tensione fosse alta presso il suo stabilimento balneare a causa di furti precedenti. Alcuni giorni prima dell'incidente erano spariti 500 euro da sotto un ombrellone. Il legale di Cinzia Dalpino ha cercato di giustificare il suo comportamento. Nella borsa c'erano le chiavi di casa, i documenti e il cellulare dell'imprenditrice. Temendo che il ladro potesse recarsi anche a casa sua e senza possibilità di chiamare le forze dell'ordine, la donna ha cercato di recuperare la borsa, ma non aveva intenzione di uccidere. Nega di aver passato sopra al corpo dell'uomo e ora prova rimorso per quanto accaduto, al di là delle sue intenzioni. Chi era Nurdin Naziki? Senza profili social e con una vita vissuta ai margini della società, conduceva un'esistenza difficile, irregolare e segnata da problemi con la giustizia. Senza fissa dimora, aveva vagato per tutta Italia prima di trasferirsi in Toscana circa dieci anni fa. Lavorava come parcheggiatore abusivo, cercando di guadagnare qualche spicciolo per vivere e aveva un problema di alcolismo che lo rendeva molesto quando beveva. Pur parlando italiano, non era riuscito a integrarsi e non aveva trovato un lavoro stabile. Era venuto in Italia con la speranza di una vita migliore, ma ha trovato una morte atroce dopo aver rubato una borsa. Se il processo confermerà l'accusa di omicidio volontario, Cinzia D'Alpino potrebbe essere condannata a più di 20 anni di carcere. Tuttavia, potrebbero essere riconosciute diverse attenuanti che ridurrebbero significativamente la sua pena.